Ridotta e priva di servizi anche oggi l'edizione del Tg3 Campania. Prosegue la protesta dei giornalisti radio televisivi che si astengono dalle prestazioni in video e in voce. La protesta si inquadra nelle azioni sindacali decise dalla Federazione della Stampa a sostegno della piattaforma rivendicativa per il contratto di lavoro. I problemi del traffico. Da domani il sistema delle targhe alterne entra in vigore sulla statale amalfitana da Vietri sul mare a Positano. Il provvedimento è stato adottato dal prefetto di Salerno. Intanto a Napoli c'è attesa per le misure che scatteranno a partire dal 3 luglio, cioè da quando cesserà la circolazione a giorni alterni nell'area urbana. C'è attesa per l'itinerario preferenziale che collegherà gli autobus da Piazza del Plebiscito a Piazza Immacolata al Vomero. Le farmacie e la distribuzione dei medicinali non si registrano schiarite. Almeno fino a lunedì prossimo, quando ci sarà l'assemblea regionale, resta confermata l'assistenza indiretta. Questo significa che i mutuati devono pagare le medicine salvo a chiedere poi rimborso. Da domani esami di maturità e di abilitazione professionale. Interessano migliaia di giovani. In tutti gli istituti l'avvio degli esami è costituito dalla prova di italiano. Progetto Carta Giovani. La circoscrizione Monte Calvario Avvocata San Giuseppe Porto ha tenuto un'assemblea presso la Sala Santa Chiara per illustrare alcuni interventi del Comune sui problemi della gioventù. Sono intervenuti gli assessori Vasquez e Bisogni. Nella Sala della Giunta, a Palazzo San Giacomo, il Vice Sindaco Giulio Di Donato ha tenuto una conferenza stampa per illustrare gli studi CESAN sulle aree industriali di Napoli. È necessario allargare sempre più il ricorso al confidi, come strumento indispensabile per garantire l'accesso al credito a tassi ben più ridotti rispetto a quelli di mercato. Questa esigenza è stata sostenuta all'Assemblea del Consorzio Garanzia Collettiva Fidi, presieduta dal Presidente regionale dei piccoli e medi industriali, Renato D'Andria. Era presente il Presidente del Collegio Sindacale, Francesco Serao. Mezzogiorno Sinistra, quale alternativa possibile? Questo il tema di un convegno svoltosi al Circolo della Stampa in Villa Comunale su iniziativa del Centro regionale per l'alternativa. Il Centro si è costituito allo scopo di favorire il dibattito tra le forze della sinistra in Campania e per stimolarne la capacità di rispondere alle esigenze di trasformazione del Mezzogiorno. All'incontro presenti i segretari regionali del Partito Comunista Bassolino, del Psi Scaglione, del Pdup Tecce e di Democrazia Proletaria Raffa, il sindacalista Lettieri, Leon della Lega dei Socialisti, l'economista Augusto Graziani e Valentino Parlato del Manifesto. Rappresentanti del quartiere napoletano Mercato Pendino si sono incontrati con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per discutere la situazione del rione. Mercato Pendino presenta infatti inconvenienti caratteristici sia della periferia che dei centri storici, traffico caotico per la chiusura di numerose strade, per la concentrazione di esercizi commerciali, diffusione della droga soprattutto fra i giovani, problemi di criminalità minorile. Gli interventi delle forze dell'Ordine vengono spesso impediti e rallentati proprio dalle condizioni del traffico. Vista la gravità della situazione si è deciso di tenere ulteriori incontri. Benvenuti a Napoli, la serie di iniziative di promozione turistica elaborate dal Comune verranno presentate domani sera alle 21.30 a Castel dell'Ovo. Alla manifestazione parteciperanno il sindaco Valenzi e l'assessore Bisogni. Dalle lotte dei giovani a Napoli per il lavoro, quale sindacato per gli anni Ottanta? Domani mattina si terrà su questo tema, nell'antisala dei baroni al Maschio Angioino, un incontro di battito. L'iniziativa è organizzata dai giovani comunisti in preparazione dell'ottava conferenza degli operai, dei tecnici e degli impiegati comunisti che si svolgerà a Torino dal 2 al 4 luglio. All'incontro di battito parteciperà Bruno Trentin, segretario nazionale della CGL. Le notizie di Onda Verde. Come abbiamo già detto, sulla strada statale 163 della costiera amalfitana, tra Vietri sul mare e Positano, compresi i centri abitati, da domani al 31 luglio si circolerà a targhe alterne. Sulla strada statale 145 Sorrentina, nel tratto Torre Annunziata-Sorrento, è vietata la circolazione fino al 15 settembre, dalle ore 17 alle 24 di tutti i venerdì e dalle 7 di sabato alle 24 di ogni domenica. Il divieto riguarda gli autoveicoli commerciali in entrata o in uscita dal porto e dalla zona industriale di Castellammare di Stabia, con qualsiasi provenienza o destinazione all'esclusione della zona sorrentina. L'ACI raccomanda, una giusta pressione delle gomme e un'abbondante battistrada ben scolpito diminuiscono drasticamente i pericoli di forature in velocità. Il premio di poesia Edoardo Nicolardi. L'amministrazione provinciale di Napoli ha bandito la tredicesima edizione 1982. Al concorso possono partecipare poeti italiani e stranieri residenti in Italia o all'estero. La partecipazione, con non più di due elaborati in vernacolo napoletano o in lingua italiana, inviati all'amministrazione provinciale in piazza Matteotti, deve avvenire entro le ore 12 del 30 settembre del 30 ottobre prossimo. Lo sport. Il Napoli ha ceduto Gaetano Musella in comproprietà al Catanzaro. L'accordo fra le due società è completo, manca soltanto il consenso del giocatore che sembra comunque intenzionato ad accettare il trasferimento se verranno soddisfatte dal club calabrese le sue richieste economiche in materia di ingaggio. Il tornante azzurro ha 22 anni, ha debuttato in Serie A nel 1977 ed ha sempre giocato nel Napoli tranne una stagione trascorsa a Padova. Come è noto, fra Napoli e Catanzaro è aperta anche un'altra trattativa per il centrocampista Braglia. Non è escluso che il buon esito del trasferimento di Musella in giallorosso possa agevolare il passaggio di Braglia alle dipendenze di Giacomini. Termina qui questa edizione del Tg3 Campania. È andata in onda in forma ridotta e senza servizi per la protesta dei giornalisti italiani impegnati nel rinnovo del contratto di lavoro. Buonasera. Buonasera. Buonasera.